Come avevo promesso venerdì scorso alla ripresa della versione di Ivan del podcast, utilizzerò questa settimana con una sorta di bignami, una sorta di riassunto delle puntate precedenti, non ci siamo sentiti per un mese, sono successe molte cose, naturalmente i giornali hanno scritto di meno, la politica è andata un po' in vacanza, ma insomma vale la pena di provare a tirare i fili di queste quattro settimane oltre di agosto nelle quali appunto non ho potuto commentare insieme a voi i fatti del giorno, ogni giorno di questa settimana utilizzerò, diciamo così, prenderò in esame un pezzo dell'informazione e della politica, oggi ci occupiamo di politica interna, di cosa è successo nei partiti e tra i partiti, ovviamente anche con un occhio a quello che succederà poi, ma insomma oggi è il lunedì 4 settembre 2023, io sono Ivan Scalfarotto, questa è la versione di Ivan, noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan, una storia al giorno, da lunedì al venerdì, rigorosamente dal mio punto di vista. Il luogo comune dice che i giornali ad agosto non sanno che cosa scrivere e credo che la ragione principale per la quale è nato questo luogo comune è che una fonte di notizie che certamente in agosto si prosciuga e si prosciuga in modo molto serio è quella delle notizie di politica interna. E' chiaro, il Parlamento è chiuso, i politici vanno in vacanza, insomma il dibattito politico si riduce di moltissimo in assenza di provvedimenti che passino per le commissioni e per le aule parlamentari, il Consiglio di Ministri naturalmente si riunisce molto meno del solito, insomma di ciccia di cose di cui parlare ce n'è poca. In realtà io credo che alcuni temi però in filigrana si siano visti e sono temi di cui io credo ci occuperemo molto nei mesi a venire, nei mesi che ci separano dalla fine ufficiale dell'anno, diciamo, dal fine del 2023. E il principale secondo me è questo dualismo che si sta delineando tra Fratelli d'Italia e Lega e in particolare direi tra Meloni che ha assunto questo atteggiamento di leader conservatrice europea rispettabile, diciamoci così, una sorta di nuova Thatcher che afferisce, diciamo così, che si rifà alla cultura conservatrice quasi britannica, insomma delle destre importanti, quelle istituzionali, tedesche, spagnole, francesi, gollisti, insomma questa roba più accettabile dalle cancellerie straniere rispetto a quella destra ruspante, sociale, diciamo così, quella della fiamma che siamo abituati a conoscere. Quanto più Meloni si sposta su questo atteggiamento così istituzionale, tanto più lascia dello spazio alla sua destra. E quindi, per esempio, abbiamo assistito a questa famosa vicenda di questo generale Vannacci che dicendo delle cose orribili, omofobe, razziste, non si sa neanche più come definirle, e tra l'altro, avendo anche un grande successo editoriale, dicendo queste cose, ha fatto scoprire Meloni da un certo punto di vista, perché quando Crosetto è intervenuto, redarguendo il militare, si è aperto uno spazio a destra enorme, prima coperto da Salvini, dalla Lega, il vice segretario Crippa della Lega che praticamente offre una candidatura all'europea, Vannacci, ma poi è stato anche lo stesso partito di Meloni, i fratelli d'Italia, a dover intervenire con i vari donzelli, dicendo sostanzialmente che poi le cose che Vannacci dice oggi non è che Meloni, insomma, dicesse cose molto diverse in passato. E io credo che questa dialettica, questa dinamica, la vedremo soprattutto in vista delle elezioni europee, dove evidentemente ci sarà una competizione tra i due partiti, e più Meloni assume questo atteggiamento rispettabile, più Salvini darà fondo a tutto il campionario di cose truci che conosciamo. E questo fenomeno lo abbiamo visto appunto tra una destra che scalpita, un'estrema destra che scalpita, e Meloni appunto che prova a darsi un tono di rispettabilità, l'abbiamo vista non soltanto con Vannacci, ma anche con Marcello De Angelis, il famoso ex portavoce del presidente della regione Lazio Rocca, che proprio all'inizio di agosto, nei giorni in cui si ricordava la strage di Bologna, ci ha voluto far sapere delle sue perplessità, dei suoi dubbi, appunto che secondo lui Mambro e Fioravanti non c'entravano con la strage, e ovviamente questo ha fatto rimbangare tutta una serie di cose, anche rispetto al passato di De Angelis, alla sua militanza in gruppi di destra veramente molto molto estrema, e lui poi si è prima difeso un po', facendo un po' la vittima in buona sostanza, poi ha dovuto cedere quando l'Elefiano ha tirato fuori in particolare questa immagine di questo vaso, di questa sorta di cerimonia del solstizio d'inverno fatta dai nazisti, che il buon De Angelis, diciamo il buon De Angelis, insomma De Angelis, ha postato su Facebook per non parlare poi delle canzoni antisemite, insomma come si vede c'è tutto un campionario di cose che per quanto si cerchi di mettere sotto la sabbia poi riemergono come un fiume carsico, e credo che ne vedremo delle belle. Tra le altre cose devo dire che la destra è ovviamente in difficoltà su una questione che invece per loro è stata molto importante, direi identitaria, ed è un problema che tocca sia Meloni che Salvini, che è quello dell'immigrazione. Anche durante quest'estate se ne è parlato tantissimo, tra l'altro c'è stata un'altra strage vicino a Lampedusa, 40 più o meno migranti morti il 9 di agosto, e gli sbarchi che continuano ad aumentare, e questo sta veramente mettendo in crisi il governo, io credo, tant'è che Meloni a un certo punto ha di fatto avvocato a sé tutta la materia, togliendola un po' a piante dosi, quindi alla Lega e anche a Tajani, quindi Forza Italia, quasi come a dire, visto che la responsabilità ce l'ho io, prendo io questa partita e l'ha affidata a uno dei suoi collaboratori più vicini, Mantovano, tra l'altro collaboratori di Meloni che sono stati quasi tutti promossi, quelli più stretti, è stato promosso Fazzolari che è andato a fare il capo della comunicazione, Arianna Meloni, la sorella della Presidente del Consiglio, è diventata capo delle adesioni, insomma un ruolo importantissimo, importantissimo, tra l'altro con una, diciamo così, tendenza al familismo che se avessimo utilizzato noi quando eravamo al governo, credo ci avrebbero ammazzato, io immagino se Matteo Renzi avesse fatto ministro, suo cognato e capo dell'organizzazione, sua sorella, cosa sarebbe successo, ma insomma non abbiamo potuto vedere cosa sarebbe successo, possiamo soltanto immaginarcelo. Ecco, un'ultima cosa che vorrei però ricordare, ricordare, visto che stiamo facendo una sorta di riassuntino di quello che è successo nel mese di agosto, nel mese in cui non ci siamo sentiti, è dare un'occhiata anche a quello che succede a sinistra, dove mi pare che la vicinanza tra PD e 5 Stelle aumenti, che ci sia anche lì una fortissima competizione per la leadership della sinistra, e però questo meccanismo sta portando a uno scivolamento anche del PD verso posizioni populiste, verso posizioni appunto irriconoscibili rispetto alla cultura riformista del PD, l'ultima delle quali è stato questo annuncio di Elish Line di raccolta delle firme contro il Jobs Act, fatta con Landini, alla quale raccolta delle firme pare che il partito si sia in qualche modo accodato, in un modo che lascia veramente sorpresi. Lo dico perché quando il Jobs Act è stato approvato, è stato approvato con piena convinzione da tutto il PD e da tantissimi colleghi che sono ancora in quel partito, e lo abbiamo rivendicato come una legge di sinistra, cioè una legge che modificava gli strumenti di tutela per mantenere la tutela del lavoro, per mantenere la dignità del lavoro, per mantenere la continuità del lavoro in uno scenario economico e internazionale che era profondamente cambiato e che impediva di garantire le stesse tutele con gli strumenti vecchi. Quindi vedere oggi che una legge che andrebbe rafforzata, i cui meccanismi andrebbero rafforzati, che viene ripudiata da persone che l'avevano approvata, votata, sostenuta, dispiace non soltanto per il cambio d'idea, ma anche perché in un certo senso è il riformismo che perde una battuta, e il massimalismo, come dire, l'etica dei principi che prevale sull'etica della responsabilità e questo dispiace sempre. Io direi che con questo possiamo concludere il nostro ripassino agostano sulla politica interna e quindi vi do appuntamento a domani. Avete ascoltato la versione di Ivan, un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato dall'omonimo libro edito dalla nave di Teseo.